Verso la premiazione della decima edizione di Storie sotto banco, il concorso di Umbria Libri è dedicato agli studenti. Vediamo com'è andata quest'anno, per noi c'era Antonella Marietti. Che cosa hanno sotto banco gli studenti? Fuori dalle lezioni, dalle interrogazioni, dai voti dei compiti in classe, hanno tanto da dire, da chiedere, hanno risposte spesso ingoiate per paura di essere giudicati, hanno chiavi di lettura del reale, milioni di strumenti per raccontarsi e lo hanno fatto per il decimo anno consecutivo gli studenti delle scuole dell'Umbria che hanno preso parte al concorso organizzato da Umbria Libri Storie sotto banco. E quali storie sono? Racconti, poesie, canzoni e fumetti. E loro sono i finalisti riuniti a Palazzo Donini, a Perugia, per parlare dei loro lavori. Anna Aurora Centemeri, del liceo classico di Assisi, ha vinto nella categoria racconti con mamma, papà, sono a casa. Una ragazza torna a casa e chiusa la porta si apre nella sua mente un universo di demoni e fantasmi che forse delineano, forse no, una realtà difficile da accettare. La scrittura e la composizione diventano così valvole di sfogo per una generazione che non è come sembra. Sono dei ragazzi che sono molto diversi da come in realtà ci vengono spesso rappresentati, non sono sbagati, non sono sdraiati, come spesso sono stati definiti negli ultimi anni. Sono molto consapevoli, hanno molta voglia di tirare fuori quello che hanno dentro, sia di capire come funziona il mondo fuori che è a loro disposizione. Nella categoria poesia ha vinto Marta Sorrentino, del liceo classico Mariotti di Perugia, mentre per le canzoni primo Leonardo Matteucci, sempre del Mariotti. Tutti i vincitori saranno premiati il prossimo 5 ottobre a San Pietro durante l'edizione di Umbria Libri.